Si chiama Ferita di Parola, l'ultimo film diretto dal regista Riccardo Cannone, un lungometraggio che affronta alcune tematiche attuali nella prospettiva di un gruppo di 17 anni, seguito dalla macchina da presa per raccontare amore, sogni, delusioni, speranze e amarezze di un'età difficile. Ambientato ad Andrea, il film è scritto e interpretato da 18 studenti liceali del quarto anno. La realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Andrea, sostegno di imprenditori privati, che hanno creduto nel progetto di parlare di adolescenza seguendo il filo rosso della violenza sui più deboli e del bullismo scolastico. Bilancio di questo progetto come è andata? Il bilancio è molto positivo perché ci eravamo proposti di raccoltare una storia che avesse come tematica la violenza sulle donne e il bullismo omofobico. Siamo riusciti a fare un film, un lungometraggio di un'ora e mezza e dalle proiezioni che abbiamo fatto questa mattina con gli studenti abbiamo testato che la storia regge, funziona molto bene, è fatta la premessa che è una storia scritta dai ragazzi di 17 anni ed è interpretata anche da loro, quindi un bilancio molto positivo. Prospettive per l'anno prossimo? Noi ci auguriamo di continuare a fare questi lavori con gli studenti perché il mio interesse è quello di esplorare il mondo delle relazioni tra gli adolescenti. Il momento di questa esperienza che più ti ha emozionata? Allora, ci sono stati tantissimi momenti molto emozionanti, quindi è difficile comunque ricordarsene uno in particolare ma sicuramente vederlo insieme in sala la prima volta con tutti quanti è stato uno di quelli. Quindi sì, è stato molto bello anche perché appunto abbiamo rivissuto mesi e mesi di lavoro in un'ora e mezza, quindi è stato molto emozionante. Con il regista si diceva che sono stati affrontati tanti temi, qual è l'aspetto che più ti ha colpito di questo film? Allora, io, cioè il mio personaggio è un personaggio molto possessivo e io a differenza del mio personaggio non mi piace molto il contatto fisico, quindi la cosa che mi ha colpito è stata proprio il rappresentare questo personaggio, la difficoltà nel rappresentare questo personaggio e all'inizio è stato molto difficile anche cercare il contatto fisico, poi man mano è sembrato essere più semplice, anche se in realtà non lo era. Questa è stata la cosa che mi ha colpito e forse mi ha aiutato anche ad essere, ad andare avanti, ad essere meglio di quanto ero prima. Da ragazzo senti l'esigenza che siano affrontati maggiormente o meglio si continui a parlare di questi temi? Sì, perché al giorno d'oggi credo che moltissimi intendano la coppia come un qualcosa di possessivo, la mia ragazza e invece bisogna affrontare questi temi perché molto spesso si alzano le mani anche involontariamente o anche si usano parole che non devono essere usate, quindi è importante trattare questi temi che magari all'inizio sembra anche banale affrontarli perché si dice siamo giovani, tanto, non succedono queste cose ma in realtà succedono molto più spesso di quanto pensiamo.